Panico ragazzi, panico, tensione, lo vedo, lo sento nell'aria, lo leggo nei vostri commenti, lo vedo quando ci sono i video degli youtubers, le live degli youtubers, sia di Juventini che Napoletani che Milanisti, questo è il giorno del panico, perché tutti vogliono passare, ormai non ce la raccontiamo, tutte e tre tifoserie vogliono e credono di farcela, e vogliono farcela, vogliono farcela, troppo importante, troppo importante, io lo sapete, non che cambio idea ogni secondo, però sono a sentimento, a sensazione, e la sensazione di oggi non è quella di ieri, la sensazione di oggi è che non passa la Juventus, la sensazione di oggi è che il Milan vince a Bergamo e il Napoli vince col Verona, ma può cambiare, può cambiare nell'arco di poche ore, ma non perché non c'è da fare previsione, questa giornata finale è una giornata di pancia, è una giornata, devi fare legna, legna sul campo, questo devi fare, non è il momento di fare, non lo so, questo è lo schema, questo è il controschema, no, devi entrare là con gli attributi e prenderti tre punti e te ne vai a casa a festeggiare, così deve essere, così, non è tempo per fare davvero disquisizioni sulle formazioni o disquisizioni su quello che può essere il modulo, non c'è niente di quello, qua bisogna entrare in campo, si prende i tre punti e se ne va, vedrete che domani, vedrete nelle partite, sarà subito così, io mi ricordo Inter Empoli, il Milan giocava a Ferrara con la Spal, c'era l'Atalanta pure in mezzo, ci fu un arrivo a tre, Inter Empoli fu risolto all'ottantatresimo, da Nainggolan, l'Empoli era praticamente quasi retrocessa, sono partite difficili che si giocano minuto su minuto, secondo su secondo e saltano gli schemi subito, nel secondo tempo, dopo cinque minuti saltano gli schemi e via, peccato che è domenica sera, perché io l'avrei fatta domenica pomeriggio, questa alle tre tutte insieme, perché dopo ci sarà un parlare, 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 sarebbe stato più bello avere più tempo a disposizione, ma l'hanno voluto fare domenica sera, quando dopo a un certo punto uno deve staccare tutto e deve andare a dormire, non l'ho capita questa situazione, però panico, panico ragazzi, io leggo il panico negli occhi di molti tifosi, per un semplice motivo, non si può sbagliare, sono situazioni che non possono essere sbagliate, il Milan è sette anni che non va in Champions League, il Napoli ha bisogno di questa Champions League, perché il Napoli secondo me sotto e sotto vuole fare lo squadrone e io credo che ci sia un contatto fra, che ci sia stato un contatto fra il Napoli e certi allenatori, Juric, si diceva Juric, non lo so se è stato contattato Juric, ma secondo me andrà qualche bel top allenatore a Napoli, ho questa impressione, ho questa impressione, è tutto un divenire, la Juventus, la Juventus in Europa League incomincia perderebbe pezzi su pezzi, perderebbe anche il valore stesso, perché è importante, specialmente in borsa, ma il valore stesso della propria società, della propria autoconvinzione si perderebbe se vai in Europa League, perché dopo guardi tutti gli altri che ci fanno la Champions e tu là, specialmente i sorteggi sei lì, sorteggiato, che ne so, con squadrette della Bielorussia, cioè che non c'entrano niente con la tua storia, a questo punto, a questo punto, e quindi sarebbe un passo, non un passo, 5 passi indietro per la Juve, c'è il panico, ragazzi, io ovviamente, questa giornata deve passare e passerà così, questa giornata deve passare, dopo faremo forse, se me lo chiedete, ci sono notizie di mercato, non avete idea, non avete idea quello che sta succedendo sul mercato, oltretutto dei rientri, non rientri, dei prestiti, non prestiti, mi sono fatto un'oretta e mi sono divertito a guardare, situazione e mercato da leccarsi i baffi, comunque, ragazzi, non è il mercato in questo momento, è normale che queste tre squadre siano proprio dentro, completamente dentro questa partita di domani, ci saranno, io avrò tre televisori, non lo so come saremmo cambiati, però la vedremo minuto per minuto e gli ultimi minuti, specialmente tutti gli occhi puntati su Bergamo, tutti gli occhi puntati su Bergamo, gli ultimi minuti saranno, voleranno, voleranno legne, voleranno legne in mezzo al campo, bella, bello, bel finale di stagione, bel finale di stagione, panico, la parola è panico, 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 perché non si vuole sbagliare, io se fossi un tifoso di una delle squadre, della Juventus quasi impossibile, però se fossi un tifoso, così da tifoso, dico che sarei preoccupato di perdere un'opportunità come questa, e pensa a quelli del Milan, ai ragazzi del Milan che già l'hanno persa contro il Cagliari, che adesso ha ancora più valore quella cazzata di perdere quei punti col Cagliari, mamma mia che valore ha, che se non ha avuto senso, ed è l'unica cosa, io l'ho detto a inizio video, secondo me è la Juventus a non passare, però c'è sempre questa partita col Cagliari è messa lì quasi a ricordarci qualche cosa che in molti non vogliono ricordare, comunque ragazzi, detto questo, sta crescendo questo canale, ci stiamo divertendo, se arrivano gli europei, dopo ci sarà il pagellone, ovviamente, il pagellone del campionato, ci sono tante cose ancora da fare e da dire, scrivetevi, 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 commentate, campanella se siete iscritti, DiegoCtn08, su Instagram, e like, non dimenticate il like, panico, ciao ciao!